Una sfida che l'amministrazione comunale è pronta a fare? Allora, una delle piccole sfide ma importanti che stiamo portando avanti adesso per la redazione del piano particolarizzato di Roseto Centro vogliamo istituire quello che viene chiamato in gergo urbanistico l'Urban Center, che non è altro che uno sportello di ascolto con i cittadini con i portatori di interesse nella fase proprio di redazione dello strumento urbanistico che ci stiamo dando quindi questa unità formata dai tecnici incaricati al piano più da alcuni consiglieri comunali come un comitato ma non è proprio un comitato, è una struttura flessibile creano questo sportello in modo che i cittadini possano portare stanze, consigli, contributi e vengono vagliati e recepiti dai progettisti del piano quindi è uno sportello, la sua importanza è questa a parte che c'è una condivisione, nel senso con la città non che si porta un progetto già preconfezionato poi si va in consiglio, l'iter classico è questo poi magari i cittadini fanno osservazioni noi vogliamo evitare tutto ciò, ridurre quelle che sono osservazioni postume ma bensì recepire le stanze diciamo intelligenti, giuste nella fase preliminare, nella fase proprio di preparazione dello strumento urbanistico ecco questo è quello che vogliamo fare naturalmente il piano si pone degli obiettivi ambiziosi perché è un piano proiettato per 30 anni diciamo che è una città che deve cambiare come ossatura urbana, come servizi quindi con questo strumento diciamo che sarà un ascolto della città serve proprio a, oltre alla condivisione a raccogliere effettivamente per un piano partecipativo diciamo, ecco che non ci sia questo rapporto di diciamo freddo oppure troppo istituzionale tra la città e le istituzioni diciamo, questo vuole fare proprio lo strumento che ci stiamo dando